ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerai foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'integratore alimentare visu complex a cosa serve visu complex a un integratore appartenente alla categoria degli integratori antiossidanti è commercializzato in italia dall'azienda visu farma spa informazioni commerciali titolare visu farma spa concessionario visu farma spa categoria di appartenenza integratori antiossidanti forma farmaceutica capsula confezioni visu complex 30 capsule descrizione e caratteristiche integratore alimentare di fattori ad azione antiossidante con coenzima q10 super bacrilo i contenente omega 3 legati a fosfolipidi vitamine c ed e luteina zexantina e selenio utile nel contrastare la euro azione per ossidante dei radicali liberi che ricoprono un ruolo fondamentale nella euro attivazione dei processi di senescenza e di degenerazione cellulare coenzima q1 molecola di natura liposolubile biosintetizzata dalla euro organismo è un componente di tutte le membrane cellulari ed in particolar modo delle membrane mitocondriali i mitocondri sono degli organi intracellulari che consentono alle cellule di respirare di fornire energia alle stesse inoltre per le sue capacità antiossidanti particolarmente nella sua forma ridotta a considerato importante nel ritardare i processi di invecchiamento e degenerazione cellulare super bacril olio estratto dal crostaceo cril antartico e ufausia superba contenente acidi grassi polinsaturi omega 3 epa ed iha a lunga catena in forma fosfolipidica gli omega 3 sono acidi grassi essenziali dato che il nostro organismo non ha in grado di sintetizzarli poiché a copyright i fosfolipidi sono i principali costituenti delle membrane cellulari il legame con gli omega 3 li rende dei componenti strutturali chiave delle membrane cellulari epa ed iha sono fondamentali per una fisiologica funzionalità a livello retinico vitamina e i più meno tocco ferrolo di natura lipofila svolge il suo ruolo antiossidante nel contrastare l'ossidazione degli acidi grassi polinsaturi delle membrane cellulari vitamina c di natura idrosolubile svolge un ruolo antiossidante poi cacopirait neutralizza i radicali liberi responsabili del danno ossidativo cellulare inoltre è importante per la sintesi di collagene nell'aero organismo luteina e zeaxantina carotenoidi con proprietà antiossidanti costituiscono il pigmento presente selettivamente nella retina e particolarmente concentrato nella macula ove esercitano un meccanismo di protezione dalla esposizione alle basse lunghezze da euronda della luce visibile la loro concentrazione a livello maculare risulta diminuita nei pazienti con degenerazione maculare legata alla euro età silenio oligo minerale essenziale per la euro organismo agisce principalmente come componente della euro enzima antiossidante glutatione per ossidasi che opera insieme alla vitamina e nel contrastare i danni prodotti dai radicali liberi alle membrane cellulari inoltre ritarda la euro ossidazione degli acidi grassi polinsaturi avvertenze la data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni non superare la dose giornaliera consigliata gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata equilibrata di un sano stile di vita conservazione conservare il prodotto in luogo fresco asciutto e al riparo dalla luce ingredienti per 1 capsula olio di krill 200 mg coenzima q10 50 mg vitamina c 80 mg vitamina e 12 mg selenio 55 amg luteina 10 mg zeaxantina 2 mg altri ingredienti capsula gelatina di pesce modalità d'uso si consiglia la euro assunzione di una capsula al giorno da deglutire con un sorso da euro acqua ai pasti principali fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato